Qui secondo me, siccome non riusciamo a distinguere il vecchio dal nuovo, è meglio o opportuno o si ritorna ai vecchissimi marchi o si guarda al nuovo. Di sicuro cambierà nome. Banca Etruria, quella nuova, viene altrimenti sempre confusa con quella vecchia. È la cicogna, il nuovo simbolo del futuro di questa banca, che viene ancora definita dalla D. Roberto Bertò la banca del territorio, in procinto a questo punto di essere venduta. Compratore di qualità può essere di due tipi. E perché dipende da noi? Perché ho detto voglio che sia di qualità e noi dobbiamo impegnarci. Perché il compratore di qualità è quello che rispetta i valori che sono tanti di questa banca. E sono il radicamento del territorio, il fatto che sia una banca retail e si raccolga e impieghi su questo territorio, e la banca dell'oro, e l'eccellenza informatica, e il fatto di avere un'assicurazione di qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo radicamento e questa vicinanza al territorio, e il fatto che il territorio stia facendo squadra con questa banca, che sente la sua banca, venga percepito. La presentazione delle offerte scade il 25 di gennaio, un tempo brevissimo rispetto alla pubblicazione del bando dello scorso 19. Un segno positivo, secondo Bertola, che poi passa al contrattacco e parla di bersaglio sbagliato a livello mediatico. Rispetto all'emorragia di dicembre dei correntisti, secondo Bertola, siamo già ad un'inversione di tendenza, seppur non quantificabile numericamente. La perdita di masse di dicembre è stata assolutamente fisiologica e succede sempre quando termina un commissariamento. Sempre. Era la composizione un po' diversa. L'attenuazione al rimbalzo di gennaio, prima me lo sarei aspettato con qualche giorno di anticipo, dopo con qualche giorno di ritardo. Bertola smentisce poi categoricamente che vengano richiesti soldi ai subordinatisti che richiedono la documentazione in previsione dell'arbitrato, e anzi annuncia di aver raddoppiato le forze per rispondere ai clienti, ma è l'unico aspetto del passato sul quale si concede di soffermarsi. Il testo unico bancario ci dice documentazione richiesta entro 90 giorni e a pagamento. Noi abbiamo detto da lunedì, gratis e urgente. Si pensa insomma al futuro e alla correlazione tra la nuova banca, comunque essa si chiami, con il suo territorio. Si è parlato tanto di fiducia, sta tornando un po' verso l'alto questa asticella oppure no secondo me? Si, sicuramente sta tornando. Era fatale, io l'ho detto tante volte, troppo vicini all'inizio del Beiling per poter accontentare tutti. Io però aggiungo una cosa, è giusto l'attenzione ai subordinatisti, è assolutamente doveroso, sono i nostri migliori clienti. Io dico solo al territorio di considerare anche altri numeri. Attorno a questa banca direttamente ci sono 9.000 persone. Indirettamente non lo so, non sono in grado di calcolarlo. È un valore enorme che questo territorio deve considerare. Non sono numeri che possiamo dimenticare.